I sindacati dei lavoratori della ferriera di Stervo, la gruppo Lucchini, hanno consegnato alla prefettura di Trieste una lettera in cui chiedono il rapido avvio dell'accordo di programma e della cessione delle attività alla gruppo Arvedi. All'incontro, che lo ricordiamo si è svolto nel pomeriggio per suo sviluppo economico su avvertenza della ferriera, i sindacati che non parteciperanno al tavolo romano hanno quindi voluto esprimere la propria posizione con la mestiva consegnata alla prefettura. Nel testo i sindacati chiedono anche che sia annullata la procedura per il prospettato stop dell'alto forno dello stabilimento siderurgico salvolano.